Buongiorno a tutti, oggi siamo in redazione a Torino Cronaca con un ospite speciale, c'è con noi infatti Italo Bocchino, 57 anni, ex deputato con quattro mandati dal 96 al 2013 con AN, PDL e Futura Libertà per l'Italia, due volte direttore responsabile del secolo d'Italia e in tempi più recenti è l'autore del libro che possiamo vedere qua, Perché l'Italia è di destra. Con questo libro l'ex deputato ripercorre, in parte riscrive, la storia della destra e del centro-destra in Italia nel dopoguerra. Ci può raccontare un po' più nel dettaglio di cosa parla il suo libro? Questo libro sostanzialmente racconta che cosa è successo a destra nella storia repubblicana, quindi parte dalle elezioni del 48 che furono la prima occasione in cui gli italiani dissero no al comunismo, passa al 94, la seconda occasione in cui gli italiani dicono no alla sinistra la gioiosa macchina da guerra di Occhetto e scelgono Berlusconi e la terza volta nel 2022 quando scelgono la Meloni per non far vincere la sinistra tecnocratica. In più racconta che cos'è la destra oggi, c'è una narrazione distorta, mainstream fa passare la destra come una banda di persone di scarsissimo valore, incolte, rozze, senza grandi capacità, invece il libro racconta cose vere, racconta che cos'è la comunità della destra e quali sono i suoi obiettivi. Ecco, il primo capitolo del suo libro si intitola Gli italiani vogliono eleggere l'uomo forte. Ci spiega perché secondo lei c'è questa voglia in Italia? Ma c'è la voglia che c'è in tutto il mondo, in realtà i torinesi vogliono scegliersi il sindaco direttamente, vogliono scegliersi il presidente della regione direttamente, gli italiani hanno imparato dalle elezioni del sindaco e del presidente della regione che è meglio scegliere direttamente, dare una responsabilità e poi punire nel caso chi non governa bene. E vogliono fare lo stesso con il presidente del Consiglio, quindi vogliono l'uomo forte, nel senso che vogliono la persona che si assume la responsabilità di governarli. Ecco perché anche tra gli elettori, come spiega il libro, dei 5 Stelle e del PD c'è un grande consenso alla proposta del premierato. Perfetto, nel libro non guarda solo al passato ma anche al futuro, alle grandi sfide del nostro secolo e in particolare alla questione demografica e dei flussi migratori. Per dire che cosa, secondo lei, cosa ci aspetta? Ma l'Italia e l'Europa non fanno più figli, questo significa che fra 50 anni saranno molti o pochi i cittadini europei e inevitabilmente arriveranno cittadini da altre parti del mondo. Bisogna invertire la rotta, per invertire la rotta ovviamente ci vuole tempo perché se uno fa una campagna a favore della natalità poi ci vogliono 20 anni, 25 anni prima che entrino nel mondo del lavoro i nuovi nati. Nel frattempo dobbiamo gestire l'immigrazione. Io parlo di immigrazione buona e immigrazione cattiva, cosa che non piace alla sinistra. C'è il cibo buono e il cibo cattivo, le persone buone e le persone cattive e c'è l'immigrazione buona e l'immigrazione cattiva. Quella buona è quella regolare fatta di gente proveniente da paesi che rispettano le nostre civiltà, i nostri modelli sociali. Quella cattiva è l'immigrazione regolare. Faccio un esempio, un esempio inquietante, cito dei dati dell'Ocse, cioè preso numero uno l'indice di capacità delinquenziale degli italiani, diventa solo 1,5, quindi quasi uguale per gli immigrati regolari e diventa 33 per gli immigrati irregolari. Quindi il vero tema è quello che sta facendo il governo Meloni, bloccare l'immigrazione clandestina. Quindi non è un no all'immigrazione in generale ma solo a quello irregolare. Abbiamo bisogno di immigrati, oggi gli immigrati sono nelle nostre case, si occupano dei nostri figli, dei nostri genitori, dei nostri nonni, delle nostre case stesse e lavorano nell'industria pesante, nell'agricoltura, però abbiamo bisogno di immigrati che abbiano la voglia di rispettare le nostre leggi e anche il nostro modello sociale che ha una componente cattolica che riguarda tutti, anche chi non crede. Ecco, lei prima ha nominato De Gasperi, la storica Michela Ponzani ha di recente criticato il ritratto che lei fa di De Gasperi, dicendo che vuole mistificare il passato descrivendolo come un uomo di destra. E così? Come ne vuole rispondere? Ma io non ho descritto un uomo di destra, ho descritto un uomo contro il comunismo che ha battuto il comunismo e che rappresentava quella che la destra era allora, la destra borghese, la destra tradizionalista, la destra cattolica, la destra conservatrice portava la democrazia cristiana in quel momento. La storica Ponzani sbaglia anche nell'analisi, perché De Gasperi non dimentichiamo che diede la fiducia a Mussolini in Parlamento, quindi ha avuto varie fasi come tutti gli uomini hanno avuto varie fasi. Io non metto in discussione che De Gasperi è stato un grande statista antifascista, ma nessuno può mettere in discussione che lui ha rappresentato anche un partito che ha preso i voti dalla testa. Perfetto, e invece abbiamo parlato di chi la critica, parliamo anche di chi la pensa in maniera diametralmente opposta, perché Ignazio Larussa e Arianna Meloni vorrebbero addirittura vedere la sua opera adottata come libro di testo nelle scuole. Lei cosa ne pensa? Sarebbe veramente adatta ai nostri studenti? Sarebbe adatto il suo libro? Ma Larussa l'ha detto con sorriso sulle labbra, rivolgendosi al ministro dell'istruzione Valditaria che era in prima fila della presentazione del libro e la mia amica Arianna Meloni l'ha detto proprio come paradosso, ma ha detto dovremmo distribuirlo nelle scuole, cioè dovremmo noi distribuirlo nelle scuole perché racconta la verità. Si racconta una Meloni che sta portando il paese allo sfascio, mentre nel libro si mettono in fila tutti i dati dell'Istat, dell'Ox e di tutti i centri di ricerca nazionali e internazionali che dimostrano che il governo Meloni è un successo senza precedenti. Quindi non si tratta di adottare il libro nelle scuole, magari lo compriano quanto è più possibile, soprattutto a sinistra e scopriranno che cosa è la destra. Perfetto, e per concludere, noi sappiamo che lei ha un legame particolare con Torino, con la nostra città, perché sua figlia studia qua. Ci sarà la possibilità di vedere anche una presentazione pubblica del suo libro qui in città? Beh, Torino è una mia tappa fissa, una figlia che vive e studia in questa città e conto di presentare il libro entro il mese di novembre a Torino e spero che il media partner possa essere Torino-Cronel. Ce l'auguriamo anche noi e con questo direi che possiamo ringraziare e salutare il signor un pochino. Grazie, arrivederci.